Mi trovo a Taranto, presso il piazzale Piazza Livatino. Per capirci ci troviamo, occhio e croce alle spalle dell'area in cui si tiene il concertone del 1 maggio. Vedete questo piazzale molto ampio che abbraccia i caseggiati, questa torre gialla e poi ovviamente gli appartamenti, le abitazioni. Qui abbiamo centinaia e centinaia di famiglie. Vi sto precisando la zona per inquadrarla meglio e a pochi metri di distanza un altro piazzale, un'altra piazza, Piazza Borsellino. Vedete quest'area enorme? Quante famiglie e quante abitazioni riguarda? Bene, le strisce bianche che appunto delimitano il parcheggio delle macchine, praticamente queste strisce non esistono più. Furono fatte per la prima e ultima volta nel 2001, da quell'anno, se la matematica non è un'opinione, dal 2001 al 2023 siamo a 22 anni. Non è un fatto estetico ma è un fatto sostanziale perché qui si crea un caos, un casino mai visto, soprattutto nelle ore. Ora vedete la zona è tranquilla perché è giorno, ma immaginate un po' la sera quando le macchine, le persone tornano a casa e devono parcheggiare, trovano un inferno e diventa difficile trovare parcheggio, oltre al fatto che parcheggiando male qualcuno può creare dei disagi al vicino di parcheggio, si possono creare scontri e urti mentre si esce. Insomma, poi di cosa stiamo parlando? di applicare quella che è una, di realizzare attraverso le strisce, attraverso un po' di vernice e un pennello, applicare proprio quella planimetria che già è pronta, sta lì, è quella, non c'è da fare altro. Ma io dico un'amministrazione comunale, l'amministrazione Melucci, che spende 7 milioni e mezzo di euro per il 6GP, poi io non mi posso sentire dire mancano i soldi per tinteggiare le strisce bianche con la vernice, è ridicolo, è offensivo dell'intelligenza dei cittadini, non è possibile una cosa del genere. Cioè qui si tratta di un'area maledettamente trafficata, altamente trafficata, un'area altamente popolata, perché torno a ribadire, a ripetere, vi sto facendo vedere i caseggiati e il numero enorme di persone, questa è una torre di 18 persone, di 18 piani, 18 piani per 4 famiglie a piano, sono 72 ed è una cosa. Poi vi faccio vedere tutto quest'altro caseggiato, guardate, questa schiera di abitazione, la vedete? Da destra a sinistra e da sinistra a destra. Beh, queste persone cosa devono fare? Si devono impazzire, devono portarsi le macchine sul terrazzo, devono parcheggiarle chissà dove. Allora, un'amministrazione sana, e mi rivolgo anche al comando dei vigili urbani, cerchiamo di mettere nelle condizioni il cittadino di essere disciplinato, ma i primi disciplinati dovete essere voi, cari signori amministratori, realizzare. Quindi, delle strisce, basta, è già tutto pronto, si tratta soltanto un pennello e una vernice. Non mettetemi nella condizione, e lo sapete che io non scherzo, di venire io con i condomini a tinteggiare le strisce. Cioè, a questo punto dobbiamo arrivare. La vernice è un pennello. Cioè, è possibile? Questi sono servizi minimi di cui, credetemi, mi vergogno pure a parlarne. I cittadini hanno rivolto l'appello a che si provveda qui decine e decine di volte, hanno perso il fiato. Non mi riferisco solo a questa amministrazione, ma pure alle precedenti, perché dal 2001, anno della prima tinteggiatura delle strisce, non c'è più niente. Insomma, dopo 20 anni queste persone hanno diritto ad avere delle strisce nuove o no? È ovvio che devo dire all'amministrazione Melucci, perché l'amministrazione Melucci è in carica da sei anni. E non è che dobbiamo aspettare la prossima amministrazione, poi la prossima amministrazione demanderà ancora all'altra e arriveremo, faremo il... Ma la zona, la zona, non è solo il problema delle strisce. Guardate un po' il porcile che c'è. Il porcile, marciapiedi sporchi, non avviene assolutamente. I netturbini, pulizia non esiste, guardate qui che accumulo di foglie, di rifiuti e quant'altro. L'erbaccia che cresce, addirittura lì, guardate, sta crescendo, sta spuntando un albero. Guardate lì, nulla, nulla. Eppure c'è la beffa, lo vedete lì in fondo, il palo che una volta, quando i tempi erano meno tristi di ora, c'era la pulizia notturna. Ora non c'è né pulizia notturna né pulizia diurna. Questa è un'area abbandonata a se stessa. Peccato perché è una bellissima zona, bella, aperta, vedete com'è luminosa. Guardate anche le palme. E quindi a questo punto, oltretutto, è stata intitolata a un giudice, Livatino, il giudice giovane che morì in tenera età, un eroe della patria, di fronte al piazzale, alla piazza Borsellino, altro giudice vittima della mafia. Insomma, vogliamo almeno onorare il nome di questi eroi della patria? Onoriamo il nome di questi eroi della patria e scusate, rispettiamo questi cittadini che pagano le tasse e non si devono sentire presi per i fondelli con la scusa che mancano i soldi. Perché cosa? Per un po' di vernice e un paio di pennelli. Vedete, io sono capace, lo sapete che un po' pazzo lo sono. Io non ci metto niente, mi metto a fare io con altri condomini a tinteggiare le strisce. Lo dico e lo faccio, caro comandante, lo dico e lo faccio, dei vigili urbani, lo dico e lo faccio, caro assessore alla polizia locale Mimo Ciraci, lo dico e lo faccio, caro sindaco. E poi denunciatemi. Cosa ho fatto? Non ho fatto altro che ripristinare un servizio per la città. Grazie.